e carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti oggi questo video su Liliana Resinovic si vorrebbe titolare gli ultimi giorni, la scoperta le sentazioni, il posto delle fragole gli ultimissimi giorni vedete, ne abbiamo parlato tante volte ma adesso la vorrei vedere sotto un'ottica un po' diversa insieme con voi perché nella mia mente la situazione appare sempre più chiara perché lo scontro diciamo dal 14 di dicembre si sposta da quelli che sanno a quello che non sa è quello che non sa ma che non è senza colpe attenzione, quelli che sanno della fuga o della costrizione di Liliana in Slovenia potrebbe essere lo Serpin che trova sponda e credibilità in Salvo e Gabriele che hanno evidentemente dei punti di contatto con lo Serpin colui che non sa in questo caso specifico è Sebastiano ma non è che dico che non sa per cui lui è il buono della situazione no, non sa questa cosa qui specifica perché lui è quello che viene accusato da tutti loro a piene mani perché era quello che non partecipava che li osteggiava, che voleva fare solo diciamo i cavoli suoi quindi quale colpevole migliore poter trovare soltanto che gli volevano uscire addosso diciamo un vestito il vestito del marito geloso che non è proprio per lui non gliene poteva fregar di meno visto che con Liliana aveva un rapporto libero fin troppo libero e nei fine settimana pure andavano in queste saune casino da coppia libera, da coppia aperta quindi un vestito che addosso non gli stava Sebastiano che oltretutto essendo un buon coriziano è anche furbo è anche furbo e aveva nei mesi precedenti sicuramente si era accorto, aveva visto che Liliana aveva preso una certa strada di affari con Serpin a cui lui non poteva, non poteva opporsi perché come detto contava come due a briscola e allora visto pure che si era reso conto che negli ultimi giorni e specie il giorno prima la situazione era nera quel mattino cosa fa? quel mattino del 14 pensa bene che dopo il giro dei coltelli di farsi il giro in bici in bici è documentato dalla telecamera perché lui non voleva entrarci nei guai che testardamente testardamente Liliana si era procurata ed allora con la telecamera si costruiva il cosiddetto alibi perfetto e quindi gli attacchi di Serpin e della banda degli onesti non erano destinati ad andare a buon fine nonostante che la maestra ci mettesse tutto il suo impegno del mondo per dire in tv se ricordate io disprezzo Sebastiano come uomo e come marito non ha fatto niente per lei e poi ancora come? Liliana non sordideva ma non sordideva solo quando era con lui dice con noi e con gli altri era ridente e gioioso capirai cosa non credibile perché poi tutti coloro che l'hanno conosciuta anche nell'ambiente di lavoro hanno sempre dichiarato di una Liliana seria taciturna riservata che non sordideva praticamente comunque piuttosto la maestra Gabriella dicesse dicesse perché perché non dissero a Sebastiano che Liliana era sparita dalle nove di quella mattina ed era scomparsa e non era sparita dalle nove cioè dal pomeriggio ma dalle nove di mattina poi in un'altra intervista dice una cosa dice una parola una di quelle parole che a me fanno impazzire al punto veramente che darete state nel muro mi dovete credere una frase che vuole pretende di essere intelligente ma contiene una una sorta di nullità perché dice Liliana non si è suicidata ma è stata suicidata pensando di dire una cosa bella io vorrei vorrei domandare ma cosa significa già vi siete messi in bocca la parola per tanti mesi scompenso cardiaco vi ricordate è morta per scompenso cardiaco pensando di fare una bella figura quando è una scemenza perché lo scompenso lo scompenso cardiaco può essere provocato da qualsiasi tipo di alterazione qualsiasi è come non dire nulla e questo è anche il caso di si è suicidata si è suicidata che cosa che cosa vuol dire si è suicidata vuol dire che qualcuno l'ha convinta l'ha convinta con un bel discorso e dire ma forse è meglio che vai a suicidarti oppure che l'ha accompagnata l'ha accompagnata sul posto e l'ha incoraggiata al suicidio siamo ancora a questo vogliamo finire almeno di dire queste parole tanto per dire e quindi qui finiamo con quello che non sa cioè il sebastiano ora dobbiamo iniziare con quelli invece che sanno di questa di questi ultimi giorni quelli che sanno in primis c'è lo serpin che sa che il corpo sta per essere restituito probabilmente lo sa lo sente sa o sente che verrà restituito nei sacchi neri sa o sente esattamente il posto dove verrà restituito insomma i sacchi neri sono un comune denominatore il 26 dicembre dice sono andato con covalero e cercavamo nei sacchi neri poi sono andato una settimana dopo con un amico un fantomatico amico non si sa chi è e cercavamo nei sacchi neri vedete sempre nei sacchi neri morta e nei sacchi neri interrogato sul perché ecco interrogato dice perché lei si cercava nei sacchi neri lui risponde sì perché quando cercavo un covalero si cercava nei sacchi neri perché ero convinto che se l'avevano uccisa la mettevano nei sacchi della spazzatura ma allora qualcosa non torna amici e amiche mie dice che già quando la cercava con covalero cercava sacchi neri perché era ovvio che se l'avevano uccisa la mettevano nei sacchi neri ci siamo ma c'è di più perché gli inquirenti gli chiedono sempre a domanda risponde gli chiedono ma quando in diretta televisiva la giornalista le comunicò di trovamento di un corpo di una donna in un sacco lei perché ne indovinò come fece a indovinare il colore nero e lui ancora ma era ovvio perché io ero sempre stato convinto che chi l'ha uccisa la considerava spazzatura e quindi la metteva in un sacco nero era logico la considerava spazzatura la metteva in un sacco nero ah si è così è così caro Serpino allora io mi domando perché poi subito dopo in diretta tv dice ma se sta infilato in un sacco nero non va bene ricordate disse no ma se sta in un sacco nero non va bene come non va bene fino a lei ripetuto cento volte che doveva essere così che andava bene così poi dice ma se sta in un sacco nero non va bene non va bene perché adesso non va bene se hai detto che da sempre cercavi le liane nei sacchi neri perché chi l'ha uccisa la considerava spazzatura perché poi in diretta tv dice se sta in un sacco nero non va bene perché all'improvviso poi non va bene perché non va bene andava bene fino a un minuto prima poi non va bene più e poi ancora e poi ancora non finisce qua perché ancora vorrei chiedere da dove deriva la convinzione ripetuta che colui o coloro che l'hanno uccisa la dovesse considerare spazzatura cioè si dice ma la consideravano spazzatura e l'hanno messa nei sacchi neri ma questa convinzione che la dovesse considerare spazzatura ma da dove da quale ispirazione veniva per quale motivo perché l'accostamento di uno che viene anche uccisa deve essere con la spazzatura io credo credo che ciò nascondo un retropensiero cioè dal momento che lui poteva sapere quali erano gli ambienti che avevano preso rapito o trovato Liliana conosceva indirettamente queste persone che non solo uccidono ma spesso restituiscono il corpo in delle condizioni tali che sono dei messaggi un po' diciamo un po' uno stile mafioso ecco una restituzione come messaggio allora c'era secondo me questo retropensiero e poi non credo vedete che fosse il solo a sapere e a sapere probabilmente condivideva tanto con gli amici salvo e Gabriella specie salvo qua salvo là in ogni dove in ogni suo discorso c'era salvo c'è una sola cella che aggancia fino al boschetto me l'ha detto salvo una sorta di simbiosi che si cementifica dal momento della scomparsa di Liliana dove guarda caso Serpino va subito o quasi subito va in Slovenia dove subito va in questa Slovenia a fare cosa a cercare la la cugina Silvia Radin a Plavie una persona che lui non conosceva ma poi non è stato visto da nessuno a Plavie da nessuno eppure lui eppure lui disse ma no io non la trovai ho chiesto ho chiesto a tutti lì in paese non ha chiesto a nessuno perché nessuno lo ricorda nessuno ha detto è venuto un signore a chiedere allora è lecito a questo punto è lecito pensare che egli vada a cercare qualcosa altro in Slovenia informazioni da qualche parte proprio in Slovenia perché proprio in Slovenia perché probabilmente gliene aveva parlato Liliana al telefono in quella lunga drammatica telefonata del 13 di dicembre e glielo aveva ribadito molto probabilmente anche nella telefonata delle 8 e 22 del giorno successivo e guarda caso la stessa ipotesi in quei giorni della Slovenia viene fatta da Salvo e Gabriele dicono può darsi si sia rifugiato in Slovenia guarda un po' questa innissima combinazione ovviamente loro di facciata dicono si sarà andata via per sfogliare la mascherita mamma non mamma vado non vado mamma non mamma ma invece potevano ben sapere che la sua non era una fuga l'amore era forse una fuga ma forse un rapimento mi sono fatto l'idea che lei molto probabilmente per rimediare ad una ad un ammanco ad una perdita avesse fatto dei debiti fuori controllo con gente non giusta di malaffare non credo nemmeno debili solo per se stessa perché se fossero stati debili per se stessa lei avrebbe potuto fare fronte con con i propri risparmi ma forse per conto terzi ma poi alla fine si era trovata solo lei davanti era andata lei davanti a metterci la faccia come sempre avrebbe forse voluto rimediare almeno in parte ma ma significativa è quel gran premio di Abu Dhabi forse lì il 12 dicembre cerca di rimediare con magari una scommessa devo pensare per forza questo perché lei mai si era interessata al gran premio di Formula 1 e fra il 12 e il 13 mattina cerca compulsivamente ripetutamente informazioni su quel gran premio e far pensare ciò ad una ad una forma di di scommessa su chi avrebbe vinto questo famoso titolo di campione del mondo che era sospeso proprio sul filo di lana fra Hamilton e Verstappen probabilmente anche quella scommessa dato che non dipendeva da lei andò non andò a buon fine come pure quando si parla di questi fondi online o monete virtuali eccetera purtroppo quando uno non gestisce in prima persona il proprio destino e dipende da altri come può dipendere il risultato di un gran premio è normale che più di tanto non ci puoi fare quando non dipende dalla tua abilità commerciale ecco perché Sebastiano alla fine non entra in questo tipo di gioco qua perché il Sebastiano è quello pratico Sebastiano magari fa anche cose illegali non lo so ma è quello che che fa con le sue mani che compra che che si mette in gioco ma gestisce lui in prima persona il rischio vogliamo chiamare il rischio qua no qua dipende dagli altri dipende da qualcosa di virtuale o dipende dalle capacità di altri che non gestisci tu ecco perché la Liliana si trova in grande difficoltà perché purtroppo non dipende più da lei in tutti i casi è singolare che nessuno comunque da quando lei sparisce nessuno la cerchi viva questa donna dal primo momento nessuno la cerca viva perché non pensa nessuno pensa che abbia fatto un colpo di testa e se ne sia andata via magari con qualcuno o da sola all'estero chissà dove no proprio di chi sa esattamente che è inutile cercare e c'è una sorta di vuoto di sospeso tra il 15 dicembre e la fine dell'anno poi accade qualcosa di strano come se ci fosse stato un contatto all'improvviso qualcosa si risveglia c'è un contatto un emissario una telefonata qualcuno di coloro che tenevano Liliana Resinovic come se si fosse fatto avanti ad annunciare a trattare a comunicare qualcosa del genere per la restituzione del corpo altrimenti non si spiegano dei passaggi il punto di svolta è il famoso incontro del 3 di gennaio 2022 al posto delle fragole che è un passaggio importante improvvisamente il 2 di gennaio Salvo e Gabriella decidono che l'indomani vanno lì e ci deve stare pure lo Serpin proprio lì al posto delle fragole che si trovano ai pressi dei giardini dell'ex OPP e la mattina del 3 di gennaio si ritrovano lì non per il caffè 10 minuti ma seduti un'ora e mezza in cui cosa ci dice sinteticamente lo Serpin abbiamo parlato delle ricerche del corpo di Liliana e già questo è strano si continuava a parlare di una persona morta dovevano trovare il corpo ma chi l'ha detto che c'era un corpo ma non avrebbe potuto essere comunque viva alle Bahamas a Cuba a Cuba a lei piaceva tanto non c'è questa ipotesi se no bisognava cercare un corpo e cercarlo nei sacchi neri decidono che un posto dove non hanno visto nessuno non è a 10 km da lì no ma è lì è lì vicino non hanno visto proprio lì nei pressi nei giardini dell'ex OPP con tanti posti proprio lì il sospetto viene che ci fosse stata qualche comunicazione vista che c'è questa fretta questa fretta questa fretta che porta l'indomani giorno 4 salvo a contattare il direttore di Trieste prima andiamo a vedere vado a vedere andiamo a vedere lui non va a vedere in tempo prima che fa buio il giorno 5 mattina lo Serpin piomba di buon mattino in questura i posti che frequentava erano quelli i giardini là e cosa cosa è la suggestione il che ci fosse una premura perché se il corpo stava lì magari dal giorno 4 per dire ma lì dopo 3-4 giorni veramente si coteva il rischio di trovare un cadavere poi ma sfigurato da animali selvatici che ci sono topi altre cose ecco ecco perché la fibrillazione eppure quel posto a loro tanto vicino diventava tanto lontano viene chiesto a Serpin ma proprio a domanda risponde ma lei non aveva mai cercato lì nei giardini dell'ex OPP e lui dice no no io non avevo mai cercato ecco mai andato ci sono andato solo successivamente al ritrovamento del corpo sempre insieme agli amici Salvo e Gabriella che vivono ormai insimpiosi con lui però però sapete qual è la cosa per cui qualcuno che fa indagini non ci dovrebbe dormire la notte sapete qual è non lo sapete è che se voi andate proprio nei giardini dell'ex OPP nel punto in cui è stata ritrovata la Resinovic alzando gli occhi si vede lì a 50 metri dalla recensione una una simpatica struttura arancione di sera la si vede ben illuminata che cos'è quella struttura chi c'è lì in quella struttura illuminata lì a 50 metri lì appostata di mano di che cosa si tratta non è altro che il zetro del posto delle fragole il zetro del posto delle fragole per cui proprio passando dal zetro di questo posto delle fragole a 50 metri si arriva alla recensione oltre la quale c'era il corpo di Liliana che combinazione che combinazione allora io dico se il corpo stava lì a 50 metri o poco più da dove stavano in riunione Serpino e Salve Gabriella e si chiedevano perché non andavano lì perché non sono andati loro invece di stare un'ora e mezza seduti si facevano una passeggiata lì di 5 minuti quindi invece di andare il giorno dopo a Trieste alla redazione di Trieste prima non si poteva fare un giro lì invece di andare in questura la mattina del 5 gennaio non ci si poteva fare un giro lì era allungare la mano stavano lì proprio lì a 50 metri e poi la sorpresa è che il giorno 5 di pomeriggio l'hanno trovata ho avuto ragione disse Serpino l'ho detto io stamattina ho avuto ragione io non credo all'intuiti vedete non credo alle tante combinazioni agli intuiti non credo il sospetto forte un sospetto è che ci sia stato qualche tipo di contatto qualcosa c'era troppa fibrillazione in quei primi giorni di gennaio troppe stranezze la restituzione del corpo non è stata una meraviglia ed attesa ed è avvenuta nei sacchi neri così come immaginato anche se poi lo Serpino dice se sta nel sacco nero non va bene no va bene va bene va bene perché così era stato immaginato se la spazzatura stava nei sacchi neri così come immaginato tutto torna tutto era compiuto Liliano aveva pagato pagato con la vita una questione molto probabilmente legata ai soldi una situazione che le era sfuggita di mano aveva pagato lei 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 per tutti anche per per colui che aveva contatti con lei colui che gli era stato così vicino e che per un po' per paura un po' per convenienza un po' per ignavia aveva preferito nascondersi dietro una storia d'amore inventata che proteggeva se stesso ed anche altri questo è quello che io penso che potrebbe con la logica la ragionevolezza essere una ricostruzione che certamente non viene considerata a livello ufficiale io lo lo spero però ovviamente il gossip è gossip grazie amici miei condividete il video dappertutto grazie di avermi seguito seguitemi sempre vedo che siete sempre più numerosi vi voglio un monte di bene vi date la forza sempre per andare avanti un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti